Vi quadra così? Una mappa dove inserire le probabilità e dovevo prendere un numero casuale per ogni turista. Bisogna capire quello che mi dice Enrico che ha insalvato tutto in una mappa e poi prendere un numero casuale per ogni turista. Attenzione che quel numero casuale con casuale lo confronto. Lo devo confrontare con n voli possibili, ma non devo prendere tanti numeri casuali. Non c'è il rischio che se io prendo un numero casuale piccolo mi prenda sempre il primo volo che incontra. Bisogna vedere il codice. Ah, probabilità è accumulata. Sì, quindi alla fine è la stessa cosa. È fatto in un modo diverso, ma il ragionamento ovviamente è quello. Devo sommare tutti i vari pesi, tradurli in probabilità. Quindi posso dividere, anziché sommare fino a 29, posso dividere per 29 e quindi avere questi pesi. Li normalizzo in modo che la loro somma faccia 1 e poi estrago un numero tra 0 e 1. Alla fine l'idea è la stessa. Mi scuso perché guarderà questo nella registrazione perché ho avviato la registrazione purtroppo tardi. L'ho detto ma non l'ho fatto e quindi ci siamo persi la discussione sulla prima domanda che era come si faceva a calcolare il volo in modo probabilistico sull'esercizio 2 della prova d'esame del gennaio 2019. Allora Matteo Bianco ci parla di una discussione che stavamo vedendo su Telegram. Della query per gli archi dell'ultimo tema d'esame risolto. In particolare non ho capito perché come la condizione per evitare repliche della stessa tupla è stata usata la condizione su portion ID non su portion display name che è quello che alla fine si estraeva. No, ho scritto una cosa e ne ho pensato un'altra, se no sono d'accordo con te. Andiamo a prendere il codice. Cioè la condizione deve essere su portion display name, non su portion ID. però forse ho capito, sono due cose diverse. Allora vediamo se Eclipse ce la fa in giornata. Allora eravamo in questa. Allora questa. Allora sono due cose diverse. Un primo controllo dovrebbe essere quello di evitare di creare degli archi dei loop, quindi archi che si chiudono su se stessi. Allora in questo caso, e questo non l'ho fatto in questo esercizio, quindi alla fine poteva essere un errore, una mancanza, poi mi sono accorto che facendo la query, come vi ho detto su Telegram, che in realtà per fortuna ho avuto fortuna, di casi di quel genere non si verificavano. Allora in quel caso per evitare l'arco di un nodo con se stesso avrei dovuto imporre la condizione che portion, p1 portion display name e p2 portion display name fossero diversi. E fin qua non c'è dubbio. Quindi per evitare di replicare più volte la stessa cosa potevo... Invece il discorso sulla portion ID l'ho posto perché altrimenti avrei avuto questo vincolo qua, altrimenti avrei avuto sempre... Cioè lui ti chiede, ma hai due portion diverse che in realtà facciano riferimento allo stesso food? Perché se io non metto questa condizione di disuguaglianza, è di sicuro che una portion e se stessa hanno lo stesso food code. E allora troverai sempre almeno una. No? Non so se mi spiego. Prendiamo il diagramma delle classi, che è qua nel pdf. Ok? È questa la tabella. Quindi io devo chiedere di avere due portion display name, sono due diverse, se hanno dei food in comune. Quindi vuol dire se almeno una delle sue portion ID ha in comune almeno una portion ID dell'altro display name. Ok? Qua, questo database è un po', diciamo così, non troppo normalizzato. È come se noi avessimo le portion ID e poi avessimo le portion display name con una relazione uno a molti. Ok? Perché possiamo avere lo stesso display name con diversi portion ID. Quindi io ho un portion ID che in qualche modo è associato a tanti... Scusate, rifaccio la frase. Un portion display name che è associato a tanti portion ID diversi. Ciascun portion ID è associato a un solo food code. Non può esistere il caso, forse, che io abbia un altro portion name con lo stesso portion ID. Non può esistere perché è una chiave primaria. Quindi, le due cose si intrecciano. Se le portion display name fossero diverse, in automatico le portion ID sono diverse. Quindi, se io avessi imposto la condizione sulle portion display name diverse, il portion ID non lo devo neanche più guardare. Io non ho messo, l'ho dimenticato, ho seguito un ragionamento diverso, non ho messo la condizione sul portion display name, e allora però mi sono chiesto, attenzione, che però la stessa portion non posso confrontarla con se stessa. E un modo per evitare di confrontare la stessa portion con se stessa è stato di mettere disuguaglianze sul portion ID. Mi state forse convincendo che ho sbagliato, nel senso che così sto confrontando nella query lo stesso display name con un portion ID diverso rispetto al display name uguale. Questo può darsi che sarebbe stato meglio mettere disuguaglianze sul portion display name e sarebbe stato più corretto. Il testo chiede due portion display name diverse, non due portion diverse in assoluto. Sì, sì, questo è vero. Allora, se le portion display name sono diverse, di conseguenza le portion ID sono diverse. Non è vero il contrario. Cioè, io posso avere delle portion ID diverse, ma dei display name uguali. e queste però non le devo contare. Non le devo contare perché dov'è avere delle portion ID diverse con lo stesso foot code, ma di display name diversi. Sì, quindi direi che mi state convincendo sempre di più che la formazione corretta sarebbe stata questa. Mettendo disuguaglianze sul portion display name. Perché altrimenti così ne sto contando qualcuno in più. Potenzialmente, poi bisogna vedere se ne le database ci sono. Cioè, sto contando dei display name che ha più lui stesso, lo stesso display name, ha più portion ID, le quali abbiamo tutte lo stesso foot code. Allora, in quel caso, questa uguaglianza di foot code tra portion ID diverse dello stesso display name, lo sto contando come se fosse un foot code in comune con l'altro display name che, poverete, non c'entrava nulla. Quindi adesso bisogna vedere adesso cosa viene eseguendo questo. Prendiamo il main, no, dovrebbe essere. Chiaramente i numeri sono leggermente diversi. qui il bar lo scelto male. Il backup che ci dà sempre tante soddisfazioni. Vabbè, poi bisogna vedere chiaramente i numeri, no? Però. Questo è uno dei motivi per cui, come dicevamo, il... Ah no, niente, come non detto. Questo potrebbe essere uno dei motivi per cui sai che la volta scorsa avevamo avuto la discussione del tipo nel testo dell'esercizio vi diamo già degli esempi cosa capita se per caso gli esempi non mi vengono ma non mi vengono per poco, no? Cioè, ci sono dei piccoli errori o dei differenzi, non chiamiamoli errori perché non si sa mai da che parte sta l'errore, delle differenze tra l'esempio che abbiamo fornito e il valore che avete messo voi. Allora, se il valore è completamente sballato, allora molto probabilmente c'è qualche problema grosso nel codice. se l'errore magari è minimo potrebbe essere anche proprio una sfumatura, un'interpretazione che porta a qualche... c'è una sfumatura minima che però porta chiaramente a qualche differenza nei risultati. Quindi come dicevamo l'oltre scorsa, se i vostri risultati non vi vengono ma sono dei valori quasi giusti conviene guardare insieme il compito. Non ritiratevi solo perché avete una cifra decimale sbagliata. Le soluzioni delle simulazioni di queste settimane non sono già online? Non mi ricordo. So che le stiamo preparando e non mi ricordo. Avevo quasi in mente che la prima fosse già stata caricata online ma non forse solo il testo perché qui abbiamo caricato questa del 5 giugno c'è il testo che in realtà abbiamo messo pubblico e c'è anche il brand soluzione. Quindi come si dice grazie per la domanda ma abbiamo già la risposta anche la settimana scorsa. E' un problema noto o una cosa nota il fatto che dato un testo magari veramente ci sono delle piccole sottigliezze e mi ricordo quando abbiamo preparato la soluzione di questa simulazione della settimana scorsa l'abbiamo risolta separatamente io e Alberto Monge e non ci tornavano risultati. Poi alla fine siamo andati a confrontarci e abbiamo capito che la serie è diverso e abbiamo poi ritoccato il testo. Questo a volte si riesce a fare e si riesce a capire però nessuno esclude che ci sia una terza possibile sfumatura che qualcuno di voi vede e quindi la consideriamo volentieri se fate qualcosa leggermente diverso tanto per dire quanto è complicato essere precisi e avere un testo univoco. Chiaramente negli esami facciamo più attenzione che non nelle esercitazioni che facciamo insieme dove vabbè l'errore ci può stare perché come dicevo questa qua l'ho risolta dal vivo insieme a voi ragionando insieme a voi e chiaramente il dettaglio ti può scappare sull'esame facciamo più attenzione sia noi che voi ovviamente. la simulazione d'esame è fatta mercoledì scorso era questa scusami ah no 2019 niente sono fuso scusate sono a fine del semestre anch'io sì verranno caricate sì 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 no c'è la simulazione d'esame che ha fatto durante la lezione avevo capito la tua domanda ma ho letto male la data qui perché purtroppo le date si accavallano sì sì queste le pubblicheremo allora il testo dovremo pubblicarlo subito la soluzione il punto 1 ce l'abbiamo già pronta e il punto 2 dobbiamo ancora riguardarla bene però l'intenzione è di pubblicarlo ovviamente così come abbiamo fatto per quelli anni scorsi come sempre io quello che preferisco se voi mi fate domande sulla vostra soluzione non sulla mia soluzione quindi se provate a farla non vi viene sentitevi liberi di far domande e chiederci non vi viene Grazie. Mentre poi pensate ad eventuali altre domande. Grazie. 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 c'è la display name 1 e display name 2 salterà fuori con lo stesso identico peso anche la coppia 2 e 1 se uno vuole evitare che capiti questa cosa può mettere non solamente un diverso ma un maggiore o un minore e allora a questo punto di tutte le righe ne prenderà esattamente solo la metà questo lo posso fare qui quindi avere già qua direttamente la metà lo posso fare qui cosa di nuovo che non ho fatto nel senso che potrei qui non solamente verificare se i vertici sono contenuti ma se uno è minore dell'altro oppure come ho fatto io devo dire per pigrizia me ne sono fregato nel senso che io quando ho l'add edge aggiunge l'arco e cosa succede se l'arco c'è già lui lo dice allora questo metodo crea un nuovo edge questo perché affinché questo nuovo edge venga aggiunto al grafo non deve essere uguale agli altri archi del grafo e quindi la prima volta che creo anche lo dice qua meglio se il grafo già contiene un arco dalla sorgente specifica allo specifico target questo metodo non cambia il grafo e ritorna a null ok quindi io che sono stato pigro ho detto vabbè senti questo controllo qua se questi due vertici li ho già considerati oppure no lo facciamo fare al grafo io gli dico senti metti quest'arco lui dice ma guarda che quest'arco ce l'ho già anche se è stato inserito al contrario però ovviamente visto che è un grafo non orientato lui il controllo lo fa nei due sensi allora l'arco non viene aggiunto e quindi questo addeggio non genera un nuovo arco semplicemente non fa nulla ritorna a nulla sto facendo il lavoro doppio cioè dal punto di vista dell'efficienza del tempo di elaborazione chiaramente il modo migliore sarebbe bloccare tutto subito qua mettere subito un maggiore qua un minore qua e quindi questi dati qua non mi arrivano non devo più fare nessun controllo ai livelli superiori sarebbe sicuramente la cosa migliore universitamente un po' per dimenticanza un po' per pigrizia durante la risoluzione non l'avevo fatto l'importante è che questo non mi ha dato problemi a questo livello sì esatto in questo caso è solamente una questione di prestazione che ovviamente se abbiamo la metà dei risultati ci metteremo la metà del tempo questo è sicuro quindi vale la pena di farlo non dovrebbe cambiare per nulla ovviamente il grafo né i pesi né il numero di archi nulla perché come dice Sonia sono tutti doppioni grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Allora direi che visto che non arrivano più domande, io chiuderei la chiamata, il meeting, perché tanto è inutile rimanere in attesa reciprocamente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.